Allora, verso la terra. No, 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 no. Dimmi. La devi impugnare come il manubrio di una bicicletta. Perfetto. Ah, così. Perfetto. Pronti. Braccia, le distendite. Poi? Le braccia le porti verso l'alto. Magari tenendo la pala. Molti quando utilizzano la pala si pongono il problema del mal di schiena. Qual è la posizione corretta e la postura corretta per utilizzare la pala? Ed è questo che oggi andremo a scoprire. Però siccome io sono un deficiente di utilizzare la pala, utilizzerò la mia personal trainer che abbiamo al telefono in collegamento che si chiama Michela, che vedete? Dove la vedete? La vedete di qua, nell'angolino. Ciao! Michela, Michela mi senti? Mi sento, forte e chiara. Allora, per favore, aiutami a spiegare qual è la posizione corretta per utilizzare la pala, qual è la postura corretta per palare, per non farsi male alla schiena, per non farsi venire il mal di schiena. Perché molta gente soffra il mal di schiena, tutti soffrono il mal di schiena, tu soffri il mal di schiena, io soffri il mal di schiena. Sì! Però noi sappiamo qual è la posizione corretta e quindi non abbiamo più mal di schiena da quando seguiamo questi consigli di quali nemmeno io sono a conoscenza in questo momento. E allora spiegami qual è la posizione corretta per la pala. Io lo farò vedere al pubblico e insieme salveremo la schiena a tutti gli italiani e anche a tutto il mondo. Vai! Come usare la pala? Ma diciamo che io non ho idea di come si utilizza la pala, però ti posso darmi i consigli. Cosa ti ho chiamato a fare? Allora, innanzitutto... I consigli mi puoi dare? Innanzitutto, ogni volta che inizi a utilizzare la pala, prima riscaldati un po'. Quindi, posa la pala per terra. Posa la pala e accendo un fuoco? E accendo un fuoco? No, divarica leggermente le gambe, perfetto, così. Piega leggermente le ginocchia e prova a fare. Non mi sono mosso, eh. Meramente non mi sono ancora mosso. Ero già divaricato. Bene, quindi braccio lungo i fianchi e spai le circonduzioni con le spalle. Vai! Aspetta, vai piano, vai piano, perché... Cioè, tu in pratica mi faresti fare ginnastica nell'ordine. Certo! Per ricominciare. Per riscaldarmi, per non avere ma... E' una buona idea. Allora, aspetta, ricominciamo. Ma non devo? Allora, le gambe sono... Morica, le gambe. Le gambe vanno bene. Le braccia... Le gambe sono va bene. Le gambe va bene, vanno bene. Braccia lungo i fianchi. Le braccia? Lungo i fianchi. Lungo i fianchi vuol dire così? Sì, perfetto. Tipo come un robot. Esatto, schiena dritta, stringi il sedere e... Chiena dritta. Ecco, stringi il sedere. Stringo il sedere. Che ho la pancia. Cosa stai dicendo? La pancia. Ok, che non ce l'hai, dai. E fai delle circonduzioni. Copro la pancia. Ok, circonduzioni con le spalle. Devi fare dei cerchi... Cosa vuoi? Dei cerchi con le spalle. Quindi... Cerchi con le spalle? Così? No, 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 no. Sì? Guarda. No. Porta. Sì, guardo. Non ti vedo, cosa guardo? Lo so, lo so. Sto parlando a una macchina fotografica. Allora facciamo una cosa un po' più facile. Porta le spalle alle... No, 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 circonduzioni delle spalle. Aspeggio, aspeggio. Era così, no? Ok, però parla con tutte e due, insieme. Ma all'indietro? Perfetto. Iniziamo all'indietro. O in avanti? Indietro. Indietro. E ne facciamo un centinaio? Cento! No! Dai, dai. Sono pronto. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, vado bene? Benissimo, benissimo. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, non ce la faccio già più, 20, 30, 24, 25, 26, 27, 28, ma le braccia le devo tenere così? Sì, 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 morbide. Morbide? Certo. Ok, adesso falla andando in avanti. 45, 46, 47, 48, 49, senti facciamole 50 all'indietro, 50 in avanti, diciamo io non ce la faccio. Ma sì, dai, diciamo che per gli amici a casa possono andare bene anche 10 avanti e 10 indietro. E che cacca, io non sono un amico, chi sono io per te? Maledetta! 9, 10, 11, 12, 12, va bene, perfetto. Ora, adesso ci faremo vedere qual è la posizione corretta per utilizzare una pala. Vai Michela, spiegami qual è la posizione corretta. Ma pensi di essere riscaldato a sufficienza? Perché non è, non era, ci sono altri esercizi per caso. Certo, certo, certo. Però adesso tieni la, la, la pala in mano. La pala, la pala, la pala. Pronti, pronti. Allora, verso la terra. No, 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 no. Dimmi. La devi impugnare come il manubrio di una bicicletta. Perfetto. Ah, così. Perfetto. Pronti. Braccia, le distendite. Vuoi? Le braccia le porti verso l'alto. Magari tenendo la pala. Ah, erbo dei piegamenti, così. Ok. Da questa posizione la pala, il bastone lo porti dietro le spalle. Dietro le spalle? E le giù, giù, qua. Perfetto. E così lo riporti su. E vai su. Così? Ok. E ne facciamo 15. 15. 3. No, eravamo a 2. 4. No, 2 più 1 fa 3. 3. Ricomincio. 1. 2. 3. 4. In realtà sono lezioni di matematica queste. 5. 6. 7. 8. E che velocità vanno fatte? 9. Ok. Vanno bene così. 11. Naturalmente puoi anche farlo un pochino più piano. Perfetto. 11. 15. Quindi, perfetto. Poi, un consiglio. Perfetto. Aspetta, aspetta. Visto che la pala non è equilibrata, potresti ripetere l'esercizio con la pala alla tua sinistra. Dunque, la pala alla mia sinistra. Sì, ma sempre impugnata come un oscurio. Ok. Ah, la rimetto così? E ripeti dall'altra parte. Di nuovo? Sempre 15. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Madonna, mi sento super riscaldato in questo momento. Io sono pronto a palare. Allora, facciamo vedere come si posiziona la pala. Allora, come posso scavare? Vado giusto? Allora, riprendi. Vado bene? Sei quasi. Riprendi un attimo la pala a manubrio. Pala a manubrio? Perfetto. Le mani sono vicine alle spalle. No, non è vero. Sono lontana adesso. Avvicina la pala alle spalle. Perfetto. Da qui, porti in avanti. Ma è un altro esercizio? Certo. Pensavi di aver finito. Ah, no. Io sì che lo devo di aver finito. No. Va bene. Ok, piega leggermente le gambe. Perfetto. No, troppo, non troppo. Ok. Da qui, le braccia le porti in avanti, le distendi in avanti e tornano alle spalle. Ok, ti chiedo ancora una cosa. Abbasso un po' le braccia. Perfetto. Perfetto. Mamma mia. Sei un allievo... Sulle tette in pratica. Esatto. La lutezza è quella. Sei un allievo modello. Si vede che faccio il volto ogni tanto, eh? Sì. Bene. Anche di questo esercizio... Quante volte? 10 da una parte e 10 con la pala verso destra. Ah, ho perso il conto. Sono già 10, vero? 10 dai, dai. Te ne appuono. Gira la pala. Non ho contato. Giriamo. Ok. E le fai altri 10. 2, 3. Quindi con le gambe un po' piegate così. Esatto. Prendo la rete così. Stai attento perché... Vado bene con le gambe piegate così? Sì. Controlla che la pala sia alla stessa altezza, sia da una parte che dall'altra. Anche se è sbilanciata con il peso. Ok. Ok, dai 10 mi ho fatto anche un po' le miei braccia. Perfetto. Siamo pronti a farvi vedere come si fa là. E là... Bisogna scaldare anche un po' la schiena. Non solo le braccia. Certo. C'è il collegamento che... Certo. Non ti sento. Mi senti? Non ti sento. Pronto? Adesso ti senti. Purtroppo il collegamento è tornato. Dimmi. Dimmi. Allora, la posizione è quella di prima. Quindi, le braccia le tieni distese in avanti. Perfetto. Piega leggermente le gambe e devi bloccare il bacino. Perfetto. Ora fai... Bloccarlo? Praticamente lo devi sculettare o ancheggiare. Ok. Da questa posizione guarda la tua destra, quindi fai una torsione del busto verso destra, non della testa. Stefano. Così. Ok. Perfetto. E torni. Così. E poi dall'altra parte. Vado? Sì. Ah. C'è un limite fisico qua. Eh, ma guarda un po'. Le tue ginocchia devono guardare la telecamera. Ah. Allora, ricominciamo. Devo stare fermo con le ginocchia. Tipo così. Così. Perfetto. Torna indietro. Così. Non esagerare, eh. Andare indietro. Sennò poi devo venire fino lì a sbloccarti. Ok. E ne fai. Sì, perché tipo mi incastro nella rete. Guarda che bello. Ti piace questo esercizio? Buona roba. Buona roba. Buona roba. Buona roba. Buona roba. Buona roba. Ok. Giusto, giusto. Quante? Bene. Vado bene. Sono un bravo allievo? Bravo. Anche di queste tenete. C'è un male alle spalle. Allora, porta le braccia in basso. Rilassale un po'. Non faccio più. Sei pronto? Sì. Per scavare la terra, siamo pronti. Vai, dimmi. No, no. Cosa devo fare? Adesso riscaldiamo un po' la schiena. Ora, hai il bastone sempre impugnato con un manubrio. La schiena. La schiena. Questa è la nostra sconosciuta. Bastone impugnato come un manubrio. Così? Perfetto. Lo porti per terra, tenendo le gambe tese. Piega le gambe. Tese? Sì. Vai giù con la schiena. Così? Esatto. Fino in fondo, fino in fondo. Ok. E... Da qui? Fino in fondo, fino a qua arrivo. Esatto. Non ci arrivo perché, vedi, c'è un mucchio di roba qua, quindi più di così non si può scendere, è impossibile. Ok. Perciò va bene. Perfetto. Senti un po' tirare dietro le gambe? Tantissimo. Sono inchiodato come... Ok. Ok. Quando risali, non così veloce, no, ti viene il colpo della strega. Più piano, più piano. Ok. La strega, no, 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 se arriva la strega gli tiro una palata. Pronti? Allora, ascoltati bene prima di farlo. Vai fino ai piedi, dopodiché ritorni nella posizione... E anche? Aspetta prima di farlo. Ritorni... Aspetta. Ritorni nella posizione retta e porta le braccia verso l'alto. Quindi io devo fare così, ma le porto tenendole dritte? Vai su, sì. E vado su fino... Da qua, prova come se volessi appenderti all'albero, quindi allunga bene la schiena. Ok. Scrocchia tutta! Perfetto. Lentamente torni giù, piega le braccia. Piego? Piego, piega, piega, piega. Porti verso le anche e vai giù. Ah, ma quindi prima ho sbagliato, non dovevo tenere dritte le braccia. Esatto, solo che io dal video non ti piego e vado su e allungo bene. Allora, aspetta, ti faccio vedere già così. Perfetto, vai giù. Problemi dei collegamenti, allora. Così. E così. Bene. Così? Sì, adesso li sali. E vado su, allungati bene. Quando arrivi in alto, adesso, Stefano. Non ho peso. Cerca di tenere sempre bene gli addominali e non andare indietro a narcare la schiena. Allora, tu guarda la mia schiena e dimmi se è giusta. Allora, immaginati di sentire il tuo ombelico schiacciato verso la colonna. Allora, ombelico schiacciato verso la colonna. Per tutto il esercizio. Giù, giù. Ok. Ah, ti piega troppo. Piano piano, piega leggermente le ginocchia. Ok. Apri. Leggermente e vado subito a portare le braccia in alto, allungamente. Al sole. Al sole. Perfetto. Questo lo puoi fare 5-6 volte. C'è la velocità? Lento, molto lento. Immagina che la tua schiena sia una cerniera, quindi devi srotolarla quando sali, come se la stessi a freddo. Una cerniera. Ok. Sono una cerniera, sono una cerniera, sono una cerniera, sono una cerniera. Quattro, sono una cerniera. Ma tipo una zip? Esatto. Tipo... Come va? E' bello però, mi dà una bella sensazione, è quasi come una cosa che non si può dire. Mi raccomando, occhio perché sarai sicuramente più alto e più lungo. Occhio quando passi sotto le porte. Mi stai allungando. Questa cosa qui può voler dire anche una cosa brutta. No, 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 assolutamente. Sto parlando. Ma qui che non passa sotto le porte. Ce n'è un paio qua. Eh, non va bene. No, 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 no. Sto parlando della tua schiena. Ah, la mia schiena mi sembra... Se sono tutto sudato vuol dire che mi sono scaldato abbastanza. Cosa ne pensi? Bene. Lo facciamo vedere come si pala, poi magari... Magari mi torturi un'altra volta. Ok. E tra l'altro io non so come si pala correttamente. Io neanche. Perché se io devo dare una palata... Ma come? Cosa ti ho chiamata a fare? Ma io sono il professore trainer, non sono mica un contadino con il sapere di come si pala. Allora, facciamo una cosa. Io ci provo e tu mi dici se più o meno tengo la schiena giusta per non spaccarla. Così almeno ho un riscontro e riesco a capire. Dai, va bene. Allora, io a linea di massimo la faccio così per non spaccarmi. Al posto di spingere così, che mi spacco la schiena, pingo col piede, che mi sembra... Però non entra perché c'è una radice. Direi che potrebbe essere un'ottima idea. Potrebbe essere un'idea. Poi però di solito non mi capita, anzi lo farei quasi vedere al contrario così. Facciamo finta che io sia mancino. Al posto di tirare su così di peso, che secondo me mi spacco la schiena però... Dipende da quanto è incollata la terra giù. Io di solito ci metto una gamba qua e faccio leva così. Dimmi se sbaglio e poi tiro la terra dappertutto. Vado bene così? Sì, io direi sempre... Ci dovrei provare. Magari dopo il tuo tutorial proverò nel mio orto. Dopo il mio orto. Ecco, se invece dovessi girarla su senza lanciarla nel giardino del vicino. Cosa potrei fare? Io ti consiglio sempre di sfruttare le leve, quindi le braccia e le gambe. Quindi piega sempre... Quindi? Piego? Ok, e prova. Ok. Stringi sempre gli addominali. E prova bene. No? Non va bene? Tiro su? No? No? Vai, vai, vai. Sì? Sì o no? Vado? Vado. Tiro su così? Eh. Quindi così più o meno? Sì. Ce l'abbiamo fatta! Il bobbino. Va bene. Io direi che per oggi... Per oggi è sufficiente questo. Ho distrutto mezzo polla. Ho distrutto mezzo polla. Io ho lanciato la terra a casa dei vicini. Mi sono spaccato la skip. Però effettivamente io mi sento bene. Mi sento un sacco bene. Bene. Adesso quasi quasi... Mi sento quasi un atleta in questo momento. Va bene. Allora ti ringrazio per il collegamento. Figurati. Alla prossima. Non lo so se ci saranno altre puntate di questo genere. Però magari la prossima volta mi farei vedere un altro attrezzo come posso usarlo senza spaccarmi le orecchie. Sì. Va bene. D'accordo? O possiamo usare le gambe. Va bene. Ciao a tutti. Ciao a tutti. E Stefano, se hai bisogno, anziché farmi un fischio, fai dieci pressioni e io arrivo. Ciao. Ciao. Ciao a tutti.